Nervosismo, polemiche, attacchi più o meno personali, non sono di certo mancati toni forti ed aspri alla conferenza stampa convocata ieri sera a Lauretana Forum da Palla Canestro Biella, in chiusura della seduta societaria convocata per approvare il bilancio. E pare proprio questo essere il centro dei veleni che attanagliano i soci della squadra di basket che milita in Serie A. Molti sono i soldi che mancano per la marcata riduzione di abbonamenti ed in seguito per una riveduta composizione societaria. E così si è assistito ad un vero e proprio processo nei confronti di quei tifosi che si permettono di fischiare anche se la classifica pone la squadra rosso-blu in ultima posizione nella classifica. Le contestazioni che arrivano dagli spalti, insomma, non consentono alla società di sentirsi a proprio agio nella loro casa, anche se, scusate l'intromissione del cronista, ma quello dovrebbe essere il palazzetto dello sport dei biellesi e in virtù della verità, dato solo in concessione a Palla Canestro Biella. Ma ci si rende conto che a volte si allargano troppo i gomiti e si occupa spazi non proprio personali. Bando comunque alle solite a volte scontate polemiche che tirano in ballo amministratori, politici, imprenditori che non vogliono metterci soldi, un interrogativo emerso riteniamo sia bene evidenziarlo. Ma questo territorio ci tiene veramente ad avere una squadra di basket in Serie A? E le risposte potranno essere tante e dovrà essere proprio il territorio con la sua gente a rispondere. Ma la prima risposta che sorge è questa. A che prezzo e con quali benefici? Con noi Massimo Angelico, presidente di Palla Canestro Biella, un messaggio chiaro. Ridare entusiasmo, ridare fiducia al territorio e anche i soci per continuare ad amare e stare vicino a questa squadra. Sì, i soci sono pilastro importante per questa società. Noi abbiamo bisogno del sostegno del pubblico, abbiamo bisogno che come in passato il pubblico sia veramente il sesto uomo perché noi abbiamo bisogno di entusiasmo, passione, abbiamo bisogno di sostenere questi ragazzi. Sono giovani, hanno ampie possibilità di crescita, si impegnano quotidianamente negli allenamenti. Abbiamo bisogno veramente della città e della vicinanza della gente. Presidente, non le sembra che è da parecchi anni che si fa fatica a riuscire a fare un campionato di A in modo dignitoso e divertendo soprattutto il pubblico perché lo sport è rivolto anche al pubblico, non solo alle aziende che possono avere un ritorno economico nel settore dello sport. Non le sembra che sarebbe forse meglio fare un campionato inferiore ma dando più spettacolo? Io direi assolutamente no. Facciamo la massima serie. Il nostro obiettivo è e rimane quello della massima serie, quindi di non retrocedere. Quest'anno c'è una retrocessione e non dico che sia più facile, però dobbiamo fare un po' la gara sui nostri diretti concorrenti. Dobbiamo cercare, come dicevo prima, di sostenere. Direi anche, tra l'altro, che abbiamo fatto degli ottimi campionati, intervallati magari da campionati dove ci siamo salvati l'ultima giornata. Chiaro che si tratta di far spettacolo, di creare emozioni e di essere appassionati. Presidente, ci sembra che un po' tutto il settore del basket italiano patisca la crisi, non solo economica, ma forse proprio una crisi un po' di identità. Gli audience televisivi sono calati. Abbiamo, proprio quest'anno, una classifica molto corta. Sono nove le squadre a quattro punti. Quindi, veramente, c'è un grosso divario tra alcune squadre e altre. Questo ci sembra di interpretare una crisi un po' proprio del sistema basket. Ma io, più che crisi, parlerei di un momento economico diverso. Lo dimostra il fatto, magari, di un calo degli abbonamenti, un calo delle presenze, non solo nostre, ma in tutte le società di Serie A. Noi ci basiamo, comunque, come tutti, come tutti gli sport, sulle sponsorizzazioni, inserzioni, ma anche sul pubblico. È chiaro che lì è un gatto che si morde la coda. Cioè, più pubblico, più incasso, più posso spendere perché ho più disponibilità. Se posso spendere di più, posso creare una squadra più competitiva, più spettacolare. E, chiaramente, il pubblico viene a vederla. Bisogna cercare sempre il punto giusto di equilibrio. Come dicevo prima, non c'è dubbio che, comunque, stiamo vivendo un momento economico che coinvolge dalla prima società, da quella che è in testa in classifica, all'ultima che siamo noi. Un momento economico difficile, dove la gente veramente fa fatica, in un momento, anche triste, se vogliamo, a tirare avanti, arrivare alla fine del mese. Per cui, è chiaro che le prime cose alle quali uno rinuncia è, magari, la parte, il divertimento. E nel divertimento ci può essere anche una squadra di basket.